Mi presento, sono Paolo Ferrari, direttore commerciale aria industrial di Mozzanica & Mozzanica. Questa divisione ha lo scopo di promuovere servizi, prodotti, impianti e anticendio nell'ambito dei nostri mercati di riferimento, chimico, farmaceutico, alimentare, tecnologico e industria pesante. Il nostro team è composto da personale tecnico-commerciale formato per la gestione del portafoglio clienti e lo sviluppo di nuovi mercati in ambito service e impianti e anticendio. Una parte del team è dedicata al service. Il loro compito è informare il cliente relativamente allo stato di efficienza di impianti e attrezzature, proponendo soluzioni e interventi per il corretto ripristino degli stessi. Il team impianti è impegnato in attività di ricerca e sviluppo, supportato anche dall'ufficio tecnico. Il nostro obiettivo è sempre quello di fornire delle soluzioni ad hoc per cliente, ascoltando le esigenze dello stesso ed ascoltando le esigenze del progettista antincendio. I nostri punti di forza sono sicuramente le persone. L'azienda ogni giorno promuove attività e servizi per spingere ognuno di noi a essere parte di una squadra, una squadra vincente che sia rivolta sempre verso il cliente. La nostra crescita è continua, anno su anno, anche di fronte a delle difficoltà che hanno messo in ginocchio imprese e aziende, di fronte a una situazione geopolitica di stabilità. Il messaggio verso il mercato è che Mozzanica è la soluzione giusta per una gestione della sicurezza integrata, una società strutturata, preparata e virtuosa, in grado di interpretare i nuovi rischi offrendo soluzioni all'avanguardia, innovazione tecnologica, sempre un passo davanti agli altri. Ogni anno ci siamo fissati agli obiettivi ambiziosi. Ogni anno lavoriamo per raggiungere questi obiettivi. Ad oggi le squadre operative dell'ufficio tecnico e dell'ufficio commerciale lavorano insieme per spingere in maniera efficiente nelle tre aree di business che in questo momento supportano la crescita di questa realtà. L'area industrial sicuramente è un'area performante, accompagnata dalle aree oil and gas e navale. Il portafoglio clienti service della nostra azienda esprime in tutta la sua semplicità un termine che è il termine fiducia. La coerenza della nostra azienda e della nostra preparazione ha fatto sì che aziende qualificate, ma soprattutto leader nell'ambito chimico e farmaceutico, abbiano deciso di rimanere con noi per più di un ventennio. Oggi la nostra sfida è quella di far capire ai nuovi clienti che la nostra realtà è la realtà giusta per loro. La realtà che possa comprendere appieno le criticità delle proprie attività produttive e trovare nuove, importanti soluzioni per le problematiche che riguardano la sicurezza antincendio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.